questa invece la seconda statuetta che purtroppo versa in condizioni come vedete anche questa disperate in realtà probabilmente questa statuetta risale almeno al fine 1800 probabilmente solo che come vedete manca anche la targhetta quindi era una statuetta incotto peraltro come vedete è gravemente usurata e anche questa necessiterebbe di restauro però purtroppo anche per questo il comitato di rinascimento cerrese mi ha detto che non possono intervenire proprio per loro per statuto non possono fare questi interventi a legnano quindi bisognerebbe proprio che fossero le istituzioni di legnano a occuparsi di queste situazioni come vedete veramente un peccato perché ripeto in realtà questa nicchia probabilmente risale al 1800 quindi era già comunque qui nei primi del novecento quindi purtroppo questo è lo stato di degrado del nostro patrimonio artistico